hai acquistato qualcosa con il black friday sì ma solo online cosa in particolare vestiti abiti sì ma soltanto online per il momento non ancora entro nei negozi e controllo principalmente sull'abbigliamento mi concentro e magari per il black friday sui regali di natale quindi vediamo se al negozio online dove più conveniente elettronica abbigliamento rimaniamo tradizionali con vederlo al negozio e quant'altro perché perché non mi interessa io e il mio collega diego martelli vorremmo sapere se lei ha approfittato del black friday perché non c'è la possibilità attualmente tasche vuote tasche vuote ma questa mia moglie approfitta il black friday che vuol dire l'escondo che fanno l'escondo ma come glielo deve dire sua moglie che vuol dire ma lui si interessa quella sembra lei la spesa scusate ma chi paga però pago io cosa comprerà ad oliver è un bel gioco visto che lui ama tanto le palle li prenderò una pallina nuova sì sì un portiere perché si diletta a parare i miei tiri maggior parte online poi magari il resto per quanto riguarda il cibo e genere insomma di necessario direttamente nei negozi c'è una nipotina piccina e vedo se posso trovare qualcosa di interessante ma ci crede in questo black friday poi insomma non è un con troppo stiamo aspettando ancora e ma poi finisce e lo so lo so però non vediamo perché magari il portafoglio un pochino utile mo l'ha detto bene la cosa posso chiedere se ci credi nel black friday o no quindi tu dici nel dubbio mi astengo devo comprare un televisore probabilmente lo comprerò si rivedrà in televisione un buono un buono sconto quindi avete preso varie e vari oggetti abbiamo sì qualche diciamo che regalino così certo ma tu proprio adesso che cosa comprerà macchinetta per il caffè stavo vedendo su internet stamattina ho visto dei prezzi che sono un po appetitosi quindi vado a vedere buon caffè grazie buona giornata sono uno che spende poco diciamo per queste cose non mi riduco perché oggi sarà un delirio perché ci riduciamo tutti in questi giorni a diciamo a fare il branco no quindi io vengo in giorni più tranquilli quindi non venerdì nero ma lei fa la pecora nera del black friday diciamo di sì thank you very much happy holidays